Dopo anni di attese e disagi nel basso salernitano, stanno per essere aperti una serie di cantiere per la messa in sicurezza delle strade provinciali chiuse al traffico per frane o particolarmente insicure o disastrose per gli automobilisti. Il primo intervento a partire interesserà il comune di Santa Marina, dove la prossima settimana saranno consegnati i lavori per il ripristino della via abilità della SP82. Le opere mandate in appalto per un importo di 550 mila euro interesseranno due tratti dell'importante via di collegamento, uno dei quali chiuso da oltre due anni, quando gran parte della carreggiata franò rendendo la via impraticabile con gravi disagi per quanti risiedono nella cittadina cilentana a monte della sua frazione rivierasca Policastro. Nei giorni scorsi l'assessore provinciale Attilio Pierro, insieme all'impresa, ha eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei fatti. Questo è solo uno dei cantieri che sta per aprire in questo territorio. La prossima settimana, detto Pierro, consegneremo anche lavori per la messa in sicurezza della SP210 a Mogirigerati e il 18 settembre apriremo le busse per l'affidamento delle opere progettate per il ripristino della via abilità sulla SP16 tra Casaletto Spartano e Torraca. Nel primo caso si tratta della via che conduce alle note grotte della WWF, una strada che da decenni a causa delle sue pessime condizioni crea non pochi disagi agli autobus carichi di turisti italiani e stranieri e scolaresche in gita, danneggiando in questo modo l'immagine turistica del paese albergo. Grazie a tutti.